Lei lavora proprio davanti al palazzo dell'omicidio di questa mattina, del duplice omicidio. Sì, del duplice omicidio, l'ho saputo appena arrivato, quindi sì, penso a una zona di avvocati, commercialisti, c'è il tribunale qui, c'è la Rai Lì, insomma è un posto dove c'è tanto mercato di servizio, chi va e chi offre. Tre omicidi scoperti in poche ore, tre prostitute uccise a coltellate nello stesso quartiere della capitale, il centralissimo Prati, due scene del crimine a nemmeno un chilometro una dall'altra. La prima scoperta in via Riboti, dietro piazzale Clodio, due le donne trovate senza vita, entrambe cinesi e senza documenti, una sul pianerottolo, l'altra dentro un appartamento, in quello che ufficialmente sarebbe un centro massaggi. Giusto il tempo per la scientifica di arrivare sul posto che scatta il secondo allarme. C'è un'altra vittima, a poche centinaia di metri, in via Durazzo. Anche lei è una prostituta, una trans colombiana di 65 anni. Avete sentito urle? Niente, niente, niente. Questa mattina, intorno alle 12.45, in questa palazzina gialla di via Durazzo, è stata trovata una trans accoltellata. È una via tranquilla? Tranquillissima, sì. Gli inquirenti non escludono che dietro gli omicidi ci sia un'unica mano, tutte pugnalate e tutte appartenenti al mondo della prostituzione. Si stanno analizzando i tabulati telefonici delle tre vittime per ricostruire contatti avuti con i clienti nelle ultime ore. Analizzate anche le telecamere presenti nelle zone di via Durazzo e di via Riboti. La donna cinese ritrovata sul pianerottolo era completamente nuda e ciò fa supporre che stesse tentando di sfuggire al killer.